Bentornati sulla piattaforma di Gamsco, una piattaforma legale, affidabile, che io uso da ormai 8 mesi e puoi anche comprare servizi streaming, ma soprattutto qualsiasi servizio che tu vuoi come Netflix, Premium YouTube, Disney+, Paramount+, Office e hanno anche aggiunto le altre piattaforme. Quindi in questo caso questa piattaforma ha più di 150.000 utenti attivi e hanno partecipato più di un milione di persone a questo servizio. Quindi in questo caso il link che ti ho lasciato in descrizione ti porterà su questa pagina, puoi anche ricevere il codice sconto e puoi anche approfittarne perché Netflix ultimamente ha aumentato di un euro in più su questa piattaforma, però sempre grazie a questo codice sconto che trovi qua sotto te lo scalerà di un euro e cinquanta o due euro. Quindi in questo caso se io adesso vado su acquista adesso, mesi di acquisto, 3 mesi 13 euro più lo sconto dipende, poi te lo porta a 10 euro per 3 mesi, 6 mesi 12 mesi, 12 mesi più lo sconto forse arrivi a 43 euro all'anno su Netflix. Seleziona tipo un profilo, puoi comprare un profilo oppure puoi comprare 5 profili, hai un codice promozionale o un coupon, inserisci così il codice promozionale ed eccolo qua. Vai applica, vai al pagamento e lo compri. Una volta comprato, fai anche l'accesso al tuo Gamsgo, quindi puoi accedere direttamente su Gamsgo o usando un account Google, Facebook, oppure puoi crearti l'account Gamsgo. Io adesso vado su Google, te lo consiglio che su Google è molto comodo. Una volta fatto l'accesso così con il tuo account Google, come ho detto è comodo perché poi quando comprerai il tuo servizio ti manderanno per via email e credenziale, ci vorrà quasi meno di 10 secondi e ti arriveranno così le credenziali. Adesso ti faccio vedere gli account che io ho comprato, quindi i miei abbonamenti ed eccoli qua. Disney Plus, Paramount, tutto Netflix. In alto a destra c'è pure un video dove io mostro, dove io compro direttamente Paramount Plus a soli 3 euro per un mese. 3 euro per un mese. Se tu compri quelli da 3 mesi ti fanno pure lo sconto e hai anche il servizio per 3 mesi oppure un anno intero. Quindi in questo caso una volta comprato così il servizio, proprio qua sopra ci sarà l'email. Come puoi vedere se adesso ti faccio vedere una cosa, eccolo qua. Tu vai direttamente sul tuo abbonamento e qui c'è l'email e qui c'è scritto mostra la password. Una volta prese così le credenziali, l'email e la password, tu vai direttamente su Netflix ed eccolo qua, email e password e fai al CETI. Io ovviamente devo ricomprare di nuovo Netflix perché avevo comprato due mesi di Netflix a soli 10 euro. Quindi in questo caso tu puoi comprare qualsiasi servizio, è comodissimo. Se hai problemi commenta anche sotto al video oppure scrivimi direttamente su Discord, puoi anche chiedermi in privato tutto quello che ti serve su questa piattaforma. Disney Plus pure non è niente male, 12 mesi 25,98 euro più il codice sconto qua sopra. Quindi come ho detto se hai problemi commenta sotto al video oppure scrivimi direttamente su Discord in privato, ti risponderò. se vuoi risparmiare veramente sulle piattaforme streaming o ascoltare musica, te lo consiglio. Gamsgo è una buona piattaforma affidabile. Quindi grazie a tutti per questa visione, grazie per il vostro tempo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.